Kamenge è un quartiere di Bojumbura e nello specifico, Bojumbura capitale del Burundi, nello specifico Kamenge è un grande oratorio sorto agli inizi degli anni 90. Nasce in un modo strano, una sorta di scommessa nel senso che un amico missionario decide di abbandonare il lavoro che stava facendo in Italia, in Vaticano in modo particolare, per ritornare nell'Africa dove era stato in anni nei quali era più giovane. Quindi a un'età avanzata ritorna in Africa, viene assegnato a questo centro Kamenge, si impegna e un gruppo di amici, diciamo che l'avevamo conosciuto appunto qua in città mentre svolgeva la sua attività pastorale, ci impegniamo e chiediamo a questo missionario, Lino Maggioni si chiama, di darsi indicazioni su come possiamo aiutarlo immaginando di ricevere richieste economiche o qualcosa di simile. Mentre lui sostanzialmente ci risponde dicendo guardate se volete aiutare l'Africa è bene che lo facciate ma fatelo soprattutto parlando, quindi facendo conoscere l'Africa e i popoli africani. E quindi da questa provocazione chiamiamola l'impegno di un gruppo di persone, l'associazione comunque è aperta a chi volesse iscriversi, l'impegno a trovare i modi per appunto concretizzare e proporre questa cultura dei popoli africani. Abbiamo iniziato appunto ormai da cinque anni questa iniziativa di parlare appunto dell'Africa usando un linguaggio il più possibile moderno e quindi la filmografia. In questo ci siamo fatti aiutare dal COE, dal Centro di Orientamento Educativo di Milano che da parecchi anni ormai sta organizzando il Festival del Cinema Africano e dell'America Latina. Quindi sono filmati non già che descrivono con particolari i toni o i popoli del centro africano ma sono filmati, film realizzati da registi africani e quasi completamente anche da attori che quindi parlano esattamente di quello che è la loro vita. Sono film che traggono origine proprio da quella che è la realtà quotidiana dell'Africa senza edulcorare nessun messaggio, nessun stereotipo. E questi filmati sono per noi l'occasione di proporre ai nostri concittadini, ai nostri giovani in modo particolare, agli studenti quindi di proporre un'occasione per conoscere dove vive, da quali abitudini proviene magari il compagno di banco piuttosto che il vicino di casa perché ormai l'integrazione è un imperativo al quale non possiamo assolutamente sottrarsi. Normalmente soprattutto i giovani, soprattutto i ragazzi sono molto vorrei dire attenti e incuriositi da queste cose, spesso fanno domande ma spesso anche fanno osservazioni che a volte sfuggono anche agli adulti. Noi soprattutto per i ragazzi abbiamo la presenza appunto di questi volontari del COE ma che sono dei mediatori culturali nel vero senso della parola e quindi cercano anche laddove ci fosse la classe o la scoloresca più timida magari di appunto di proporre le domande, di stuzzicarle in modo da... e vediamo che insomma vengono volentieri ma tornano ancora più contenti perché spesso soprattutto per i ragazzi scegliamo dei corti che durano dai 10 ai 25 minuti non di più e sono normalmente filmati appunto adatti ai ragazzi l'aiuto del COE è prezioso proprio anche in questo senso perché si permette una scelta adatta delle pellicole. Gli adulti sicuramente quest'anno abbiamo fatto in un periodo diverso abbiamo già fatto la rassegna per il pubblico adulto e anche qua abbiamo registrato un numero di presenze che ha sempre superato il centinaio e quindi ci dà sicuramente soddisfazione perché abbiamo visto che negli anni questo numero degli spettatori è aumentato ma ci dà soddisfazione soprattutto il fatto che abbiamo visto arrivare in sala un pubblico sempre più giovane e quindi sostanzialmente è quello che abbiamo sempre sperato cioè di diffondere il messaggio soprattutto ai giovani perché sono gli uomini saranno i responsabili del nostro domani e quindi acquisendo qualche informazione in più sicuramente potranno fare scelte migliori. Noi abbiamo altri progetti adesso vedremo se riusciamo a realizzarli sono sempre diciamo momenti non momenti leggeri sotto un certo aspetto pensiamo fra le altre iniziative a riportare a Brescia il coro di Bepi de Marzi che è sempre molto attento e sensibile a certe tematiche e col quale abbiamo già condiviso momenti diciamo della nostra presenza in questo tipo di attività.